buonasera amici di Greenpeace, benvenuti a questo nuovo virtual pub serale, di nuovo insieme agli amici appassionati homebrewers, questa sera un argomento che stimola parecchio tutti quanti noi, infatti siete in tantissimi e questo mi fa molto piacere. Come al solito faccio la dovuta raccomandazione che stiamo registrando, quindi chi non intende comparire nella registrazione che poi verrà messa sul nostro canale YouTube al quale vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e deve tenere disattivata la videocamera. Come sempre ci apprestiamo questa sera su idea di un amico del virtual pub, di Daniele che ci ha detto perché non parliamo un po' di ossidazione. Parliamo molto volentieri di ossidazione, ovviamente è un argomento diciamo molto sentito soprattutto da quando si è cominciato un po' molti homebrewers hanno cominciato a lavorare anche con la controvressione. Ma non è solo di questo che vogliamo parlare, cercheremo di andare un po' per gravi, io vi lancio giusto gli argomenti, poi ci confrontiamo su quelle che sono le nostre pratiche e i nostri processi produttivi. Come ben sapete l'ossidazione appunto nella birra è un difetto che spesso viene riconosciuto come cartone, diciamo un vipino licoroso, porto, sherry, ma anche metallico, molti altri descrittori e può derivare da diversi diciamo errori in fase produttiva. Diciamo la prima fase dove è possibile, forse anche la più disputa, nel senso che è controversa, ci sono i coloro che pensano che sia molto importante rimanere attenti anche durante la fase a caldo, altri invece che dicono che nella fase a caldo ossigenare il mosto risulta molto più difficile, comunque diciamo si può correre ripari perché poi con l'ebollizione si tende a estromettere dal nostro mosto tutto l'ossigeno in eccesso. Però non è proprio così, o meglio, non tutti la pensiamo così. Quindi ecco, il primo punto di riflessione è questo, parliamo dell'ossidazione a caldo, quella che riporta un po' i sentori più comuni di cartone e quella che mi interessa, è stato a leggere sempre il magnifico libro per fare la birra in casa di Ruggero Antonelli, dei nostri amici, che è sempre pieno di spunti interessanti e in questo caso parla di conseguenza dell'ossidazione di lipidici, quindi degli acidi grassi e nello specifico, ancora più specifico, l'acido linoleico del malto. Questo avviene quando praticamente si splascia il mosto, si trasferisce magari il mosto da un contenitore all'altro per proseguire nella produzione e lo si fa appunto facendo entrare grandi quantità di ossigeno all'interno del nostro caldo. Su questo primo punto discutiamone perché in effetti qualcuno pensa che invece sia poco importante, qualcuno ci dà poca importanza, anche con l'avvento degli aio è spesso dibattuto il fatto che il ricircolo qualcuno lo fa lasciando la caduta del mosto dall'alto senza aggiungere un tubicino che finisca nel letto di Trebbio o comunque al di sopra il letto di Trebbio del mosto senza quindi splasciare, invece chi non se ne cura. Vorrei cominciare da questo punto, ossidazione a caldo. Non so se volete alzare la mano, se volete intervenire liberamente, facciamo come meglio crediamo. Come sempre siamo tra amici al Virtual Pub e quindi confrontiamoci serenamente e con simpatia. C'è sempre da rompere il ghiaccio all'inizio, quindi lo rompo io chiamando il biondo, che lo vedo qua al centro della mia inquadratura, quindi non scappi insomma. Io ti voglio bene, grazie sempre per farmi fare da Titanic, vaffanculo. Mi devo prendere sempre tutti gli urti io. Allora, ti faccio una premessa. Non so se a scuola tu eri quello che veniva sempre interrogato per me, no? No, io facevo il giullare a scuola, quindi lo pievo sempre in culo comunque sia. Ma detto questo, guarda, ho smesso ultimamente di fare ricircolo. Avevo comprato una pompa, ricircolavo un po' più spesso, in maniera più continuativa durante le fasi del mesh. Ho smesso perché ho un sistema a pale, io ho un polsinello e secondo me basta e avanza le mie due palette all'interno che ho per mescolare in fase di mesh. Senza ne leggere e scrivere il ragionamento mio è stato se lo faccio o non lo faccio potrebbe portare o non portare. Meglio non apportare che apportare possibili problemi a caldo. Ci sono quantificati, non so esprimerli. Ragionando su questa cosa ho detto evito il ricircolo, mi bastano le pale, sono contento, caramellizzo poco sotto la pentola, ho un impianto a fiamma, ma ognuno poi ha i suoi disistemi e li fa sfruttare in base alle proprie conoscenze in primis e in secondis cercare di limitare i danni. Penso che questo sia un po' più fondamentale tra virgolette. L'ossidazione a caldo esiste o non esiste? Penso di sì, se no non l'avrebbero neanche nomenclata. Sono d'accordo con te, ma a te nello specifico è mai capitato di trovare una tua produzione e di aver ricondotto un difetto dovuto all'ossidazione a qualche errore di produzione a caldo? Ma io penso che i difetti te li prendi più, cioè sono più visibili in altre tipologie di fase di produzione che nel mesh. Possibile pure, che abbiamo condotto una fermentazione da paura e ci siamo presi in una tipologia di ossidazione a caldo che dà una certa rilevanza che non so neanche effettivamente quale possa essere. Quindi lascia al momento del tempo che trova. L'ho notato più a freddo che a caldo. Ok, indubbiamente. Poi ne parleremo dell'ossidazione a freddo. Diciamo che è quella più comune, visto che è dovuta anche a diversi fattori, tra i quali la presenza di lupolo magari in dry hopping, che aiuta molto purtroppo questo processo di degrado. Sempre per parlare dell'ossidazione a caldo, visto che è sopraggiunto l'amico Giulio e chiamo in causa anche lui, ma per un motivo specifico, perché un giorno andandolo a trovare quando ancora si potrebbe, ho assistito a un'ossidazione a cotta, lui ha un impianto all in one e proprio gli ho chiesto, perché vedevo che effettuava il recircolo, Giulio non so se ti ricordi, senza particolari problemi, senza praticamente mettere quella prolunga che si mette più vicino in silicone, per evitare di splashare. O meglio, perché il tuo impianto, poi descrivilo tu, è fatto in modo che esce praticamente dal ricircolo, dal basso verso l'alto, esce su una specie di disco dal quale poi si diffonde il mosto verso il letto di trebbie e lì non c'è proprio la possibilità di mettere un raccordo in modo da non farlo spasciare. Però tu non eri preoccupato, insomma, non ti preoccupava una cosa. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Non ero preoccupato, in realtà è stata la prima miglioria che ho portato, credo la cotta successiva a quella che ci hai detto a vedere tu, ho aggiunto un tubo che va sempre in immersione. In realtà non posso dire che non credo all'ossidazione a caldo perché ci sono prove scientifiche che dimostrano che un minimo di ppm di ossigeno si disciolgono anche a temperatura più alta. Non ho mai riscontrato problemi per questo, ma visto che non costava niente, anzi in termini anche di pulizia è più pulito, anche il mosto ricircola meglio perché non crea schiuma e quindi vedi meglio la limpidezza, chiamiamola così, ho messo il tubo in immersione. Quindi in pratica ricircola, ma ricircola sotto il livello del mosto. In realtà io l'ho fatto, il primo motivo era per la schiuma, perché una delle cose che credo è che più schiuma si fa durante il processo e meno schiuma avremo dopo nel bicchiere. Anche qua si potrebbe parlarne una serata, però diciamo che usare la struttura proteica che forma la schiuma, usarla prima è un peccato, mettiamola così. Meglio tenersela buona per dopo. Poi c'è il discorso di vertizzazione a caldo, che però a me sinceramente non ha mai dato problemi prima, quindi l'ho fatto più per scaramanzia da quel punto di vista che non per altro. Anche perché giustamente, come dicevi tu e come diceva anche io, non costa niente fare delle piccole modifiche a costo zero, però toglierci anche il dubbio che si possa in qualche modo a deteriorare il nostro mosto. Ma vi chiedo, in una ipotetica ossidazione del mosto a caldo che abbiamo fatto per un errore produttivo eccetera eccetera, quindi abbiamo detto che si parla dei liquidi, dei grassi acidi contenuti all'interno del mosto che si ossidano, che tendono ad ossidarsi al contatto con l'ossigeno. Ma questo errore è rimediato poi successivamente dalla bollitura del mosto? Cioè si riesce a riportare il mosto a un livello, diciamo, a correggerlo da quell'errore che abbiamo fatto? Oppure una volta fatto quel tipo di errore li rimane e ce lo teniamo? Mi permetto di, fatto una parentesi, per motivi familiari, visto che ho una bambina piccola, ho fatto due cotte di prova facendo l'ammortamento una sera e la bollitura la sera successiva. Quindi un po' come si fa nel kettle souring ma senza il souring. Una cotta ho provato, ho tenuto il mosto, non datemi del pazzo, la temperatura costante di mash out, quindi a 65 gradi per tutta la notte e ho ripreso il giorno dopo. La volta successiva invece ho provato, ho finito il mash out, ho lasciato raffreddare, ho spento tutto e ho ripreso la sera successiva. In entrambi i casi l'ossidazione era potonica, perché poi ho parlato con un collega che è molto più tecnico di me dal punto di vista chimico. Praticamente il mosto a caldo c'è una bassissima amortizzazione, cioè un liquido a 65 gradi ha un discioglimento dell'ossigeno bassissimo. La cosa che imprigiona un sacco di ossigeno è il riscaldamento e il raffreddamento. Quindi nel momento in cui si ha un liquido che continua a scaldarsi e a raffreddarsi, in quel momento l'ossigeno inizia a disciogliersi in modo veramente estremo e posso garantire che le ho buttate via. Sono state due prove per vedere se riuscivo a fare le cotte la sera dopo il lavoro senza perdere tempo con mia figlia dopo che andava a letto. Quindi l'ossidazione a caldo esiste, cioè il mio dubbio è che in una normale cotta con un semplice mash out e poi si va in boil i ppm di ossigeno sono irrilevanti. Quindi hai risposto alla mia domanda dicendo se ho fatto un errore madornale in fase di mash l'ebollizione non me la ripara. Esatto, quello volevo dire, cioè sono sceso nella sala cotta e ho sentito un odore terribile proprio di cartone e tra l'altro anche un po' di yogurt perché ovviamente come sappiamo se non pastorizza perfettamente i lattici nei grani lavorano e l'ebollizione, sì la bollitura non ha risolto proprio niente purtroppo. È un ottimo esperimento, vedi con questo esperimento ci ha insegnato che comunque. Primo l'ossidazione a caldo esiste, secondo un errore in fase di mash, un grosso errore in fase di mash non può essere riparato perché ovviamente con la bollitura poi l'ossigeno tende a fuoriuscire dal mostro ma evidentemente come dici tu se rimane intrappolato in fasi precedenti in grandi quantità poi non ce la fa. Beh io non so se c'è qualche altro intervento riguardo questo. Chris se vuoi? Ah sì ok vedo la mano alzata. Vai 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 vai. Aspetta no non c'è il microfono acceso. Riprova. Ecco mi sentite? Perfetto. Ok niente c'è un'altra cosa che può creare l'ossidazione a caldo e ne ho parlato con un birraio perché mi ha detto che gli è successo anche in birrificio e in alcuni stili può essere un problema è che potrebbe anche variare il colore della birra ovvero la birra potrebbe scurire l'ossidazione a caldo. Tra l'altro tende ad assumere una tinta rossastra quindi se noi facciamo una pilse e poi ce la ritroviamo rossastra potrebbe essere anche colpa dell'ossidazione a caldo. Se ci troviamo delle scurature rossastre noi non abbiamo inserito o Malti che lo portano e questo lo so perché mi ha parlato me ne ha parlato birraio mi ha detto anche che è successo che è qualcosa che ha verificato che è successo in birrificio quindi. Ok sì io leggevo sempre qui dalla stessa fonte che ho menzionato precedentemente che il cambio il virale di colore diciamo è più ricondotto a un'ossidazione a freddo della parte del lupolo diciamo così. Però ecco se... No lui ha detto addirittura che vedeva nel trasferimento direttamente del cambio di colore quando c'è stata un'ossidazione a caldo importante dalla specola il cambio del colore in un'ossidazione in una birra fatta solo con pilse poteva essere solo per quello quindi e quindi non poteva succedere un altro momento. Quindi anche nell'ossidazione questa è un'altra un'altra diciamo informazione importante anche nell'ossidazione a caldo la birra può assumere delle tonalità di colore più più scure e quindi è un anche questa è un'indicazione. C'è qualche altra mano alzata? Qualcun altro che vuole intervenire? Qualche altro contributo riguardo questa fase? Io ho una domanda. Facendo kettle sour si rischia di andare incontro all'ossidazione a caldo come è successo a Giulio? Rispondo io perché l'esperimento era nato proprio da questa domanda nel senso che ho detto perché uno butta i lattici e non succede niente e io invece a me si ossida tutto? Allora diciamo che la risposta è abbastanza semplice innanzitutto con i lattici ti tieni sui 35-37 gradi quindi lo sbalzo di temperatura di scaldamento e raffreddamento è molto inferiore e se hai una temperatura calda ma non 75 quindi lo sbalzo è molto inferiore e quindi il dissognimento di diottileno è inferiore. In più hai quei batteri lattici l'ideale è tenere sempre tutto molto ben chiuso c'è chi addirittura chiude con la pellicola io non lo faccio perché ho visto degli americani a cui è implosa la pentola ecco l'affreddamento eh sì sono pentole un po' più sottili delle nostre però diciamo chi ha pentole cinesi chiamiamole così dovrebbe stare attento perché se si raffredda troppo il mosto c'è un effetto di succhio e la plastica si fonde sul bordo e si schiaccia tutto è successo non è una cosa così banale però credo che il discorso sia quello ai batteri lattici comunque che aiutano a lavorare un po' l'ossigeno tu tieni più tappato possibile la temperatura è più bassa e quindi anche lo sbalzo del riscaldamento e soprattutto il riscaldamento è costante quindi è il primo salto diciamo da temperatura di mesh quindi 65 67 quel che è hai 35 quel che lo sbalzo lì non mi va a inficciare tanto no no in teoria no cioè il allora il mio problema l'ossidazione bestiale a caldo è stata che è stato tutta la notte a fare questo quindi ovviamente due ppm ora dico per ridere sono niente se stai un'ora due ppm non stai niente se ti metti 24 ore sono 48 ppm che inizia a diventare un po' più importante poi dipende anche dal grist come diceva Chris prima la birra si scurisce perché quando c'è una reazione di ossidazione diciamo si lega anche a quelle parti del malto che creano le cromie quindi ovviamente come tutti sappiamo la birra ossidata è scura è ovvio che c'è 2 ppm non ti accorgi 50 100 ppm la birra viene ho visto da un amico che non menzionerò perché non è colpa sua ha messo male la guarnizione del keg infustando quindi la guarnizione è andata sotto e quindi il keg è rimasto aperto per settimane abbiamo spillato la birra era viola ma viola tipo tipo proprio purple viola cosa pazzesca che birra era? era una neipa ah ok proprio il caso peggiori in assoluto credo sia passata dal giallo sia andata al nero al marrone scuro all'ebano e poi si abbia virato verso il viola non sappiamo ancora perché ma lo scopriremo spero non l'abbia ad assaggiata no no visto il colore io mi sono rifiutato l'ho musata poi in privato ti dirò a chi e in che ricetta però insomma può succedere anche questo lì è sfortuna bene quindi parlato ampiamente della questione ossidazione a caldo abbiamo visto che è possibile che avvengono determinati processi quello che si può fare per evitarlo passiamo nella parte delicata quella che coinvolge anche l'ambito coinvolge anche l'ambito relativo alla contropressione perché l'ossidazione a freddo diciamo avviene nelle fasi di fermentazione o un imbottigliamento quando sempre l'ossigeno entra a contatto con il nostro mostro ormai diciamo anche birra non c'è più il lievito che lo consuma perché magari ha finito di lavorare quindi il lievito si è depositato sul fondo del nostro fermentatore e quindi ha finito di fare il suo lavoro non ha più ossigeno da consumare l'ossigeno rimane in grandi quantità nel nostro fermentatore e iniziano i processi ossidativi oppure in un trasferimento che normalmente ultimamente un po' tutti noi stiamo cercando di eliminare di annullare trasferimento che ricordo solo qualche anno fa il trasferimento fra il primo fermentatore e il secondo era un'operazione consigliata dai più da tanti ora è sconsigliatissima a distanza di qualche anno tutti quanti noi lo sconsigliamo a meno che non si abbia la possibilità di farlo in contropressione quindi in assenza di ossigeno dove nel fermentatore o nel contenitore ricevente si sia saturato con CO2 proprio per evitare al massimo la possibilità che la birra vada a contatto con il nostro ovviamente il binomio assolutamente da evitare è ossigeno lupolo perché i composti aromatici del lupolo tendono a ossidarsi molto velocemente e quindi da lì sono venuti insomma tutta una serie di procedure soprattutto per stili come quello che menzionava prima Giulio la neipa dove si evita assolutamente di rifermentare quindi di dare la possibilità all'ossigeno di rientrare a contatto a fermentazione ultimata e si preferisce fare una carbonazione forzata o una fermentazione in contropressione non mi voglio dilungare anche qui c'è tutta una serie di esperienze di procedure da effettuare non solo mediante la contropressione ma insomma di accorgimenti ce ne sono tantissimi come quello che ho per esempio menzionato di evitare i trasferimenti oppure di imbottigliare se non in contropressione con la birgan ad esempio che ci consente di fare una piccola diciamo dare una piccola spruzzatina all'interno delle bottiglie di CO2 prima di riempirla con la nostra birra e qui ecco anche qui vorrei sentire le vostre esperienze un po' di argomenti li ho buttati lì un po' la rifusa però ecco parliamo perché questo è un argomento veramente interessante e molto discusso soprattutto sui forum insomma i social dove si parla di birra fatta in casa e di conseguente ossidazione forse non fate i timidi non vi fate chiamare se non poi dopo chiamo sempre biondo e si arrabbia chi vuole intervenire a questo proposito che procedure utilizzate per evitare di... vai Giulio Gianluca ti avevo detto che stasera già sono logoroico di birra ma io sono contentissimo sicuramente hai cose interessantissime io dico interessantissime non so io vi riporto le mie esperienze che questo è anche un consiglio perché io ho sempre insufflato i fusti vuoti per riempirli di birra li riempivo di CO2 spiatavo riempivo spiatavo così pensando che l'ossigeno venisse spinto fuori dalla CO2 perché sappiamo che la CO2 è più pesante dell'ossigeno e quindi in teoria va sotto e spinge fuori ahimè come abbiamo detto spesso non è acqua e olio certo il peso specifico è leggermente diverso quindi questa suddivisione avviene molto più lentamente e quindi ho notato negli anni negli ultimi mesi ho notato che sui fustini più piccoli che di solito riempivo per secondi quindi restavano un po' più vuoti avevo sempre una reazione di ossidazione superiore scopato della cosa ho provato la tecnica quella del riempimento con acqua sanitizzata chiamiamola e spurgo completo in spinta di CO2 sinceramente non ho notato un consumo di CO2 molto superiore perché alla fine fra 4 spurghi in pressione e spingere fuori un fustino pieno alla fine siamo lì però posso confermarvi che il risultato adesso è perfetto a prescindere da quanto riempio il secondo fusto perché non sempre sulle neipa spurgo ahimè un sacco di birra quindi non riesco a riempire anche il secondo fusto del tutto sto notando una perfetta corrispondenza tra il fusto pieno e il fusto vuoto che tipo di fusti usi? e i Dolly i Cornelius diciamo io uso gli A&B perché adoro quelli però insomma chi prende i Pepsi e quelli è similare riempio anche perché abbiamo la fortuna di avere lo sportello di infezione che è superiore alle valvole quindi se tu riempi di liquido sanitizzato fino a lì e metti il tappo per forza di cose è tutto pieno non so se mi spiego ok ma si può anche pensare ok per non sprecare troppo a CO2 pensavo di io lo faccio perché ho dei piccoli keg da 3 da 5 lo faccio sempre in spinta di CO2 fino a quando non mi esce dalla valvola gas e quindi sono sicuro che sia tutto pieno sì però la valvola gas almeno sui Cornelius hai un 5 cm dall'alto che significa che potrebbe esserci rimarco l'ossigeno poi dipende quanto malati siamo io mi ero rotto le scatole di avere il fustino da 9 che lo bevevo malvolentieri e aspettavo di finirlo per passare al 18 che invece era sempre perfetto quindi mi sono rotto le scatole spreco un po' più di CO2 ok sì dico la mia a proposito sempre dei fustini quindi della possibilità di eliminare quanta più ossigeno possiamo io non ho i non mi ricordo come si chiamano sempre con attacchi giolli però tutti nella testa centrale quindi non i Cornelius quei piccoli keg da 3-5 litri insomma con la testa con i balloc con i balloc sì non credo abbiano un nome sono quelli che sì infatti comunque hanno tutto sulla testa e con questo sistema diciamo non c'è la possibilità che andando in depressione rientri il tappo all'interno con questi l'ho fatto anche oggi infustando una mia birra una mia produzione lì invece che fare il riempimento con l'acqua sanitizzata sono un po' di volte che con la pompa del vuoto svuoto e riempio di CO2 per un paio di cicli e devo dire che in effetti mi trovo abbastanza bene però ecco questo si può fare solamente in questo tipo di keg che non ha il classico il classico tappo diciamo che si che va che si monta dall'interno che in quel caso se facciamo il vuoto si succhia il tappo all'interno del keg insomma o nei keg con spinone diciamo se uno ha jolly scusa civolo o faionetta ok indubbiamente con quello si può fare però quelli fra noi e un brewer credo che siano veramente poco usati perché non sono espezionabili sono difficilmente smontabili per lavarli è un po' complicato quindi quindi siamo penso che siano i pochi veramente ad utilizzare quel tipo di di keg lì di fusti e sì però rimane anche il fatto dell'imbottigliamento quindi vorrevo capire da voi come procedete per limitare al massimo l'ingresso di ossigeno sempre che non si rifermenti perché poi sappiamo che durante la rifermentazione c'è appunto i lieviti di parto non ricominciano a consumare ossigeno quindi diciamo che da quel punto di vista siamo più salvaguardati sappiamo che se anche c'è un po' di ossigeno in bottiglia il lievito grazie agli zuccheri che aggiungiamo per la rifermentazione se lo consuma diciamo e quindi andiamo meno incontro a ossidazioni però parliamo di birre che non vogliamo rifermentare che magari imbottigliamo in controversione a quel punto bisogna fare la massima attenzione in modo che finisca meno ossigeno possibile in bottiglia Giovanni ti chiede Giulio che tipo di sanitizzante usi per riempire con l'acqua il busto Sunny Clean quindi acido agnionico ma non schiumogeno perché sennò è un casino inizia a schiumare tutto il furto e poi soprattutto resta un sacco di schiuma all'interno che gli americani dicono don't fear the foam quindi se ne fregano in realtà insomma Sunny Clean è lo stesso unico principio attivo e non fa schiuma quindi lo preferisco anche Damiano è di questa scuola anche lui ha una bella schiumata e non è ossidante come prodotto dovrebbe dovrebbe l'acqua sì diciamo che ecco c'è il veri malati c'è un forum di tedeschi veramente con dei problemi che deossigenano l'acqua perché ha dei tipi ecco il biondo senza audio ma ha espresso perfettamente il mio pensiero non si vedrà in registrazione ma insomma si può immaginare so tedeschi diciamo che ma loro addirittura hanno dei sistemi delle pentole di mesh sotto vuoto in depressione cioè parliamo di gente che vuole zero ppm che poi non capisco che senso abbia visto che quando la so di nuovo tedeschi credo sia credo siano ingegneri che vogliono dimostrare di riuscire a fare qualcosa ma che poi abbia un'utilità ok quindi acqua e sunny clean poi ecco sempre in quei fermentati in quei che uso io sono simpatici perché mettendoli i capovolti la valvola di sfiato è praticamente nel punto più basso della testa e quindi posso con un piccolo colpetto una volta che sono in pressione eliminare dopo che le ho lasciate magari una decina di minuti a testa in giù posso eliminare tutto il salitizzante in modo che rimanga veramente pochissimo all'interno anche se come dicevi tu Giulio non c'è nessun pericolo col salitizzante scusate in realtà visto che stiamo registrando devo dire che andrebbe ricerquato assolutamente cioè non si deve bere non è edibile in dubbio assolutamente e sulla confezione mi sembra che ci sia scritto di risciazzoare poi dopo ognuno di noi adotta i sistemi che preferisce volevo capire invece anche dall'esperienza di altri che accorgimenti adottate per l'imbottigliamento sia contro pressione che non per diminuire al massimo l'ingresso di ossigeno in bottiglia pistola su bottiglia inclinata cercare di spasciare il meno possibile usate quella classica asta che va a finire sul fondo della bottiglia e quindi fa salire il livello della birra progressivamente senza entrare troppo a contatto con l'ossigeno che accorgimenti adottate vai Pierpao io io caro dacchio bidone di plastica e si fono dall'alto e ho quella astina da travaso che come hai detto tu riempie da sotto e cerco e cerco di tappare velocemente questo è quello che posso fare però rifermenti quindi si rifermento è una buona buon rimedio a qualche ppm di ossigeno dai e si questo è quello che faccio ho trovato online in realtà qua però si apre un altro capitolo un test di prova di 50 grammi o 100 grammi di anti-oxi qualcosa di acido astorbico e però non quello per il mesh cioè per il boi ma quello per l'imbottigliamento l'SBT è metabisolfito è acido ascorbico praticamente assorbono loro l'ossigeno però qua entriamo nel discorso se ci sono enologi qua potremmo andare a mattino alla notte ho provato a metterlo voglio provare a metterlo adesso ho fatto una IPA e vedere se cambia qualcosa si si cambia vedrai una figata però i solfatti i solfiti che ti vanno da 10 ppm massimali solitamente che è una birra vai a 150 se è un limite di legge tra l'altro che i birrifici devono stare attenti a non superare quando usano prodotti come quello sul vino è molto molto più alto Damiano può correggermi se sbaglio ma diciamo è una cosa che capisco però non condivido se si riesce a evitare meglio però è un bel trucchetto se non sei intollerante ai solfiti cosa che io sono stato è un bel trucchetto però è un allergene non capito e a livello gustativo è percepibile anche in bassa quantità? no in quelle in cui il ppm almeno io non l'ho mai percepito nel vino ovviamente immagino sia camuffato meglio da sapori più forti più alcol nella birra io non l'ho mai percepito ma quando i ppm iniziano ad essere 100 il vino ti bevi due tagli scusate due cali nella birra se mi bevo 5 pinte purtroppo non lo faccio più da appunto tempo però con quella concentrazione di solfiti diventa per me insostenibile facciamo fare il mal di testa con le leggende metropolitane che in realtà sono vere però a livello proprio di digestione di assimilazione dei solfiti sono un po' troppi ho capito quindi andiamo naturale insomma e Dario parla di riempire le bottiglie fino all'orlo quando si va in rifermentazione non so chi altro adotta questo sistema a me sinceramente non piace molto vedere la bottiglia riempita fino all'orlo però in effetti anche questo è un buon rimedio per cercare di lasciare meno ossigeno possibile in bottiglia Dario dove sei non ti vedo ecco sì 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 io rifermento anch'io come Pierpaolo però invece di pescare dall'alto dal fermentatore mi attacco al rubinetto direttamente dal fondo dopo aver travasato ovviamente le riempio quasi fino all'orlo elimini elimini un bel po' di spazio dove ci può essere dell'ossigeno che poi viene eliminato dalla rifermentazione scusate che ho fatto l'avvocato del diavolo e nel trasferimento nel travaso di cui hai parlato l'ossigeno quello con l'astina quella solita dal fondo così posso fare non è il problema da dove prelevi il problema è dove versi è quello sì 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 infatti sarebbe meglio io sono sempre stato anche quando ero un neofita veramente vabbè ho fatto errori terribili quella del travaso l'ho tolta subito ve lo consiglio perché meglio prelevare come fa Pierpaolo dall'alto in un fermentatore pieno di morchiazza che non travasarlo secondo me perché notavo appena si esagerava con lo splash cioè venivano risultati molto importanti quindi però con la rifermentazione era un sbattimento con la siringa mettere lo zucchero per ogni bottiglia e io se lo metto una volta solo e sono apposta mia moglie ha detto sì da dietro perché era la predestinata a fare con la siringa eh sì infatti è felice che sono passato alla contropressione perché si è tronto il problema qualche produzione si continua a fare non andando in contropressione e quindi una bella sparapolli e passa la paura eh ma la trovi sai dove trovarla io non l'ho più io ne ho presa una su Amazon funziona benissimo ah facemi il link dopo perché devo devo bottigliare l'acida e mi volevo già uccidere con la siringa piuttosto io ne ho presa una su AliExpress un po' di tempo fa l'ho usata una volta e la seconda non andava più eh non è non è che sono prodotti di qualità eh quindi si paga anche abbastanza relativamente poco però è affidabile è diciamo senza serbatoio e con tubicino a flusso continuo quindi si regola poi il la quantità di ml che si vogliono sparare e sì ecco è da pochi ml quindi eh poi lì bisogna fare un po' i calcoli e fare un eh una divisione per poter dare tre o quattro colpi per bottiglia diciamo se si fa troppa eh una quantità eccessiva di acqua e zuppa e per questo ritorniamo anche alla domanda che ha fatto Michele che chiedeva se è meglio con i misurini o con a livello di ossigeno penso che non ci siano queste differenze tra il misurino e l'acqua eh con lo zucchero disciolto eh probabilmente è più pratico il di sciogliere l'acqua o meglio poi eh c'è anche chi si trova bene con i misurini però il misurino poi bisogna prenderci la mano perché se si vanno a fare i calcoli per bene delle dei volumi di CO2 che si vogliono ottenere i misurini non sono indicativi insomma eh o meglio io fin quando ho usato i misurini quelle poche volte che le le ultime volte che li ho usati tanto tempo fa utilizzavo sempre il misurino più piccolo per la bottiglia di volume più grande perché altrimenti venivo a berro esattamente girgiuzzo è stato come la corazzata potionchi in che la corazzata potionchi è una cagata pazzesca e lui ha detto che il misurino è giusto cioè c'ha ragione condivido perché a prescindere dal fatto che le birre non possono essere carbonate tutte allo stesso modo e perché ogni stile deve essere carbonato con il suo livello di con i suoi volumi di CO2 poi con il misurino non sappiamo mai quando quando ne mettiamo ho due mani alzate e arrivo subito da voi e poi così concludiamo anche con l'ultimo argomento perché poi c'è un momento in cui invece l'ossidazione ne cercamo Giovanni ok buonasera ancora a tutti io non so in questo momento sto come tu sai Gianluca cominciando con la contropressione quindi ho solo acquistato il materiale quindi vi ascolto con interesse quindi non posso dare il contributo della mia esperienza finora io chiaramente con il secchio in bottiglio diciamo così per caduta una cosa che io noto è questo che se uso il stifone non succede ma nel caso in cui per esempio sto col tronco conico e quindi utilizzo il rubinetto e l'asta quella classica che usiamo tutti che va sul fondo della bottiglia dal momento che io non posso estrarre tutta l'aria che c'è nella tubazione cosa vi succede che dopo aver riempito la prima bottiglia quindi anche se io apro il rubinetto la valvola sotto è aperto quindi il pin diciamo è schiacciato quindi la birra scende immediatamente giù e va a riempire la bottiglia quando finisco quindi quando smetto di riempire la bottiglia si sentono delle bolle che attraversano tutto il fermentatore allora io lì mi chiedo sicuramente avrò fatto una bella ossidazione già semplicemente perché ci sono queste bolle che partono dal basso e vanno e vanno verso l'alto voi che ne pensate di contro se io usassi un un sifone dovrei aprire il coperchio parzialmente e quindi introdurre ossigeno nella birra e quindi non so qual è dei due il male minore il male minore e voi che ne pensate di questa cosa dell'asticella che fa risalire ossigeno mi incuriosisce se qualcun altro è capitato e quale può essere il motivo Pierpaolo tu che usi lo stesso sistema a te succede? io io uso il sifone e quindi apro sopra e via ok io penso che lui avendo il tappo chiuso sopra se ho capito bene è un tronco conico quindi magari chiude anche bene e si crea una depressione quindi sale l'aria da sotto per compensare è giusto potrebbe essere questo il motivo Giovanni dovrebbe togliere il tappino e il corvogliatore cioè no 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 quello lo tolgo quello lo tolgo se no non scenderebbe la birra no il discorso è è capitato anche mai con l'ostra travaso che deve risalire queste bollicine specialmente sulle prime seconda bollicine ma è mai successo è il CO2 non so se dipenda magari c'è il tubo un po' vecchio che non chiude bene su rubinette non so cosa si possa o la guarnizione sulla puntina che preme che non chiude perfettamente è l'anidride carbonica all'interno della birra che quando travasi comunque un po' probabilmente si abbassa la pressione e il gas esce si fa anche a me quando ho travaso dall'alto quel minimo di anidride carbonica che c'è sì che ti rimane a fine fermentazione però lui parla proprio di bolle che vede risalire più grandi la bollicina all'interno del tubo quando travasi le vedi ma è CO2 non è ossigeno perché io le vedo a metà del tubo non è ossigeno che entra cioè è un flusso che scende nulla può entrare ma è abbastanza difficile è la CO2 della birra tu abbassi la pressione probabilmente e la birra e la CO2 esce dal liquido verso l'esterno verso l'aria cioè si sposta da un posto a concentrazione maggiore a una concentrazione minore io credo o se mi è prestato così io ho 20 anni che travaso dall'alto e a volte capita che le vedo le bollicine ma le vedo a metà del tubo però io penso che sia CO2 semplicemente quindi non mi preoccuperei ok complimenti sì 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 giusto potrebbe essere anche su un rubinetto a sfera se hai rubinetto a sfera c'è sempre del del vuoto sulla parte quando lo ziri che poi si riesce però sì poi dopo si riempi si dovrebbe far solo una volta e basta poi non lo fa più ok quando si è riempito sì no ma va giù sì scusate io lo noto soltanto alla prima alla prima bottiglia poi chiaramente allora può darsi che sia quello il motivo quindi evidentemente c'è c'è dell'aria che sale su in una parte del rubinetto se è una bolla piuttosto grande sì se sono bollicine piccoline come dice Massimiliano si tratta di CO2 che risalgono perché comunque un po' di CO2 all'interno della birra c'è anche nel fermentatore allora io all'inizio la prima volta lì ne sono sicuro che era aria perché cosa è successo che tenendo il pin chiuso il pin schiacciato diciamo chiuso non schiacciato ho aperto il rubinetto del tronco conico di conseguenza cosa è successo il tubo si è riempito di birra e tutto ciò che c'era l'aria che c'era diciamo dentro al tubo è salita su e quindi lì quello inevitabilmente ha creato l'ossidazione nelle volte successive comunque io che cosa ho fatto per evitare questo problema ho lasciato il pin schiacciato quindi fondamentalmente il tubo aperto in modo tale che dal tronco conico uscisse tutta la birra e schiacciasse e spingesse l'aria verso verso il cuore esatto quindi quando ho dovuto ho riempito la prima bottiglia mi sono dovuto fermare quindi ho richiuso il pin di sotto mi ho alzato la sticella ed è lì che ho sentito tutta una serie di bolle che salivano verso su ma che erano numerose quindi non era una bollicina ho sentito diciamo sono stati un 5-6 qualche parte del rubinetto che era rimasta ancora con qualche bolla d'aria Giovanni comunque io se posso per come la vedo io nel momento in cui tu levi il gorgogliatore e c'è il buchino sopra l'aria entra pian piano poi il livello scende si riempie l'aria quindi a questo punto pesca dall'alto non cambia un pifero l'aria entra nel tronco conico non riesce a pescare dall'alto ah no? con l'asta col sifoncino immagino un tronco conico sia un po' difficoltoso no? ma prendi un maxi vai giù ti attacchi con la con la clip sul bollalipa si secondo me sono più lunghi perché secondo me ti elimini sbattimenti di rubinette cebo non lo so io lo vedo più semplice è anche un metodo per comunque tirare fuori birra più pulita in ogni caso stiamo comunque parlando di piccole quantità di ossigeno che ovviamente se lo facciamo in continuazione c'è una cosa che si ripete in tutte le bottiglie vediamo grosse bolle che salgono che ne so perché magari abbiamo rubinetto chiuso male stretto male e allora poi possiamo andare in conto all'ossidazione ma se succede una volta poi rifermentando insomma grossi problemi non ce le dovrebbero essere se le birre non sono molto lupolate e lascio la parola anche a Gabriele che è un po' che sta con la mano alzata sì ciao volevo riportare la mia esperienza con l'ossidazione in passato ho avuto molti casi di ossidazione o poco o tanto si ossidava io continuo a facevo il travaso quindi dopo la prima settimana circa di fermentazione passavo il secondo fermentatore nel caso nel caso tipo di ipa facevo il dry hopping e dopodiché ritravasavo di nuovo prima di bottigliare da lì frequentando vari forum sentendo discussioni eccetera sono arrivato a non travasare più quindi utilizzo il fermentatore iniziale mi aiuto col crash per far sedimentare e imbottiglio direttamente dal fermentatore lo faccio da rubinetto ovvero ho l'asticina collegata a un pezzettino di tubo cristal che inserisco nel rubinetto siringo la soluzione di acqua e di estrosio nelle bottiglie e poi riempio lasciando quel pochettino di spazio sul collo diciamo che ho ridotto tantissimo i casi di ossidazione l'ultima che mi è capitata se ossidazione si può chiamare magari una puntina è una vice fatta che ha un leggero colorino che non è proprio quel giallo della vice se la metto alla luce piena vedo che qualcosina ce l'ha però il sapore comunque è accettabile ho trapassato per necessità ad ottobre un'intera produzione di ipa quella che ti mi sa che te lo dissi anche che fece una ipa e ho provato il boss il boss quake che al fondo aveva fatto praticamente non ti faccio esagerazione quattro dita di fanghiglia aveva superato abbondantemente il il bello dell'ubile e l'anti sedimento ho detto che faccio spurgo tanto e pulisco oppure e in bottiglia oppure travaso o travasato e quella intera produzione è diventata fango in sapore praticamente è marrone la birra è marrone in sapore uno schiumone pazzesco fa uno schiumone pazzesco a gas ma è in sapore completamente in sapore tu questo pensi che sia dovuto a questa ossidazione assolutamente perché io l'ho bevuta appena quando mi sono lasciato il mio piccolo assaggino di quando imbottigliavo e la birra era un buon profumo un buon sapore chiaramente non gassata è chiaro quindi tranne questo ultimo episodio che mi ha confermato che non devo travasare soprattutto con una lupolata non dobbiamo travasare ormai il travaso è bandito fra gli ombrioli sto procedendo in questo modo e sono molto contento chiaramente mi state incuriosendo tanto con le altre modalità che mi garantiscono più risultati indubbio ovvio bene arrivando a un argomento finale ci sono sempre parlando di ossidazioni ci sono delle birre invece dove l'ossidazione non dico è ricercata ma comunque è presente accettabile e fa parte diciamo di alcuni stili e qui chiamo in causa vediamo un po' se c'è ancora Marco perché ovviamente in caso di lunghe maturazioni magari anche il legno è logico eccolo Marco ora lo vedo è logico che la birra ha contatto all'interno di una caratella all'interno di una botte ha contatto con il legno per lungo tempo 15-20 giorni un mese è logico che si ossidi ma sono birre diciamo con un grado alcolico abbastanza elevato e si dice parlavo di Old Ale Barley Wine o anche Stout o Baltic Port e in questo caso l'ossidazione apporta dei piacevoli eromi e qui parla di vini fortificati come Sherry Madera o Porto e qui chiediamo insomma l'opinione di Marco che di elevazione in botte è sicuramente ben ferrato guarda mi aspettavo questa convocazione stile Matteo Biondo proprio aspettavo questa tua chiamata no niente vabbè anche lì ci sono delle accortezze da seguire anche sulle botti per limitare un po' l'ossidazione ovvio la microossigenazione avviene sempre con le botti soprattutto quando le botti sono nuove poi dipende anche dall'essenza quindi dal legno con cui è fatta la botta sicuramente se mettiamo in botte una una birra dove vogliamo avere poco presente i sapori che hai citato tu e i sentori che hai citato tu su una determinata birra sicuramente non la vale da levare in un castagno che magari traspira molto di più di un rover oppure sicuramente lo andrò a mettere in una botte di castagno che ha subito tantissimi passaggi perché poi i pori tendono sempre più a tapparsi quindi diventerà sempre una botte più passaggi fa diventerà sempre più a tenuta stagna diciamo quindi già è un modo per limitare un po' questa microossigenazione che avviene in botte poi è ovvio giocare con le botti è tutto lì è tutto è giocare con la microossigenazione quindi sicuramente se vogliamo una birra che non abbia questi sentori non le andiamo a mettere in un caratello in una botte che sia certo ottima spiegazione grazie queste sono considerazioni utili ma a questo punto ha senso un imbottigliamento in contropressione da un caratello allora sicuramente cioè io lo faccio rare volte però ha senso perché sicuramente andiamo a limitare molto di molto l'ossigenazione della birra perché un conto è l'ossigenazione diciamo ricercato quella che ci aspettiamo del passaggio in botte e quindi non andiamo ad aggiungere ulteriore ossigeno andando ad imbottigliare o ad infustare poi stiamo parlando di birre comunque pulite nel caso di birre sour è già un altro un altro risposto certo indubbiamente bene io penso che insomma l'argomento l'abbiamo sviscerato abbastanza bene è stata come sempre una chiacchierata molto utile però adesso vado dall'originatore dell'argomento da Daniele e Daniele visto che c'erano alcuni dubbi c'è ancora qualcosa che secondo te c'è necessità di chiarire abbiamo chiarito abbastanza tutti i dubbi qualche aspetto dici con quel bel impianto là dietro poi devi parlare per forza perché almeno lo vediamo tutti dai i dubbi più o meno rimangono nel senso che cioè abbiamo trattato noi rifermettiamo in bottiglia e abbiamo un tino di priming quindi facciamo comunque il passaggio dal fermentatore altino e poi insomma mettiamo la soluzione con lo zucchero poi imbottigliamo quindi problemi di ossidazione specialmente nel colore ci sono poi facendo delle lupolate insomma si amplifica ancora il problema diciamo che questo è il binomio che bisognerebbe cercare di evitare no? rifermentazione no infatti ho proposto questa serata insomma per capire meglio un po' poi adesso ci siamo attrezzati con un tronco conico adesso non so anche con la CO2 volevamo inventare delle cose ma non lo so vediamo cosa viene ti può fare tutto convinci il tuo amico il tuo socio di CO2 si anzi approfitto per salutarlo che in zona russa non è potuto venire qua che disgrazia bisogna che ideate un condotto di CO2 fra le vostre case a condividere la contropressione ho due mani alzate Gigiuzzo comunque insomma è stato interessante grazie mi fa piacere poi Gigiuzzo posso ciao a tutti io volevo che tirare fuori un altro argomento l'ossidazione delle materie prime tornando all'inizio della discussione bravo bravo perché secondo me io ho avuto problemi con un malto che ho preso su un sito ho preso 25 kg e quei 25 kg non è venuto fuori niente di buono e secondo me è arrivato un po' vecchio e io nonostante i macini il giorno stesso o al massimo 6 ore prima 10 ore prima della cotta non vorrei che buona parte dell'ossidazione arrivasse dalle materie prime il lupolo in primis va tenuto bene lo sappiamo tutti ma secondo me anche i malti possono dare problemi di ossidazione quindi tu hai fatto tutto bene hai cotto senza splashare hai fatto il travaso fatto bene magari non hai neanche fatto il travaso intermedio una contropressione non ce l'ho per cui non l'ho mai provato imbottigli bene eppure ossidata io sono diventato pazzo e sono arrivato alla conclusione parlando con altri amici home brewer che probabilmente era quel sacco di malto lì era ossidato e quindi potevo fare tutto bene ma comunque sarebbe venuta una roba schifo ottima considerazione ottimo spunto anche perché può succedere a tutti noi e quindi magari invece di fasciarci la testa sappiamo benissimo che una delle cause può essere anche un lotto magari mal conservato o distribuito in ritardo di una materia prima insomma esatto 25 kg normalmente non succede 25 kg ne ho fatta un po' di birra per cui voglio dire tutti avevano il medesimo problema comune dalle birre più chiare alle ipa alle porter e quindi secondo me il mio problema era lì poi adesso sto cuocendo ancora ho cambiato marca ho cambiato sito al momento per la mia ossidazione sono tornato a quelli che avevo prima io riferimento in bottiglia anch'io per cui secondo me un minimo ce l'avrò sempre io penso che l'ossidazione pulita non ce l'avrò mai non lo so non ho mai fatto una birra perfettamente pulita dall'ossidazione adesso un po' c'ho il pallino però secondo me non riuscirò mai ad avere una birra perfetta spero di migliorare non lo so vedremo sicuramente arriverà Andrea vai allora no intanto volevo dire che mi ha stupito il fatto che ci fosse ancora che ci sia ancora così tanta gente da qui io che usa il normalissimo asta da travaso grande Andrea si teniamo botta e no l'altra cosa che volevo dire io a livello di rifermentazione che ho notato soprattutto sul tir abbastanza alcoliche io faccio tanto beggio tipo sulle triple mi è capitato che si sono ossidate quelle in cui non avevo utilizzato lieviti da rifermentazione perché magari ci mette più tempo magari l'hieviti arriva un po' stanco fino a fermentazione ci mette tempo a mangiare quell'ossigeno che te li hai introdotto volento e non lento durante l'imbottigliamento e quindi magari l'ossigeno ha più tempo tra virgolette di rovinare la birra se invece con lieviti da rifermentazione o sulle birre meno alcoliche dove il lievito è ancora più ancora grintoso ho notato che questo problema non so se zone blonde non l'ho mai avuto perché magari il lievito in 3-4-5 giorni ha già rifermentato più e quindi ha già consumato anche una buona parte di ossigeno che aveva introdotto e l'altra cosa che volevo dire priming io lo faccio con la siringa quella normale perché tanto faccio best da 15-16 e sparandolo un po' forte ti fa quella schiumina che ti permette di non riempire tantissimo cioè di riempire a livello giusto la bottiglia senza arrivare proprio al tappo e il priming sparato un po' forte che ho fatto non so se perché c'è tutto un po' di schiumina sulla bottiglia se te tappi subito il livello che ti rimane scoperto tra il tappo e la schiumina è veramente pienamente poco pur mantenendo la birra a livelli normali quindi tu metti il zucchero dopo della birra sì io metto la birra riempro la bottiglia poi c'è la soluzione di acqua e zucchero misuro con la siringa facendo i conti poi sparo un po' normale nel senso un po' deciso fa un po' di schiumina e poi vado a tappare ma la domanda è quella schiumina le bollicine di quella schiumina cosa contengono questa è una bellissima quella penso sia CO2 che viene tu sperieresti io tu lo so scusate posso dare un consiglio veloce che a me aveva cambiato la vita quando rifermentavo lo zucchero liquido di canna il brown sugar quello da cocktail se potete so che costa un po' di più però vi risolve non dovete fare soluzioni stare a sciogliere l'acqua a bollire a raffreddare mi ho ancora in frigo se qualcuno ne vuole è comodissimo io ho iniziato a usarlo era ma tu ma come fai a calcolarlo cioè sai che è già 50 l'etichetta c'è scritto di solito il 68% del peso è zucchero quindi fai il rapporto di conseguenza però ce l'hai già pronto e tiri su con la siringa e butti dentro pam 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 mettevo mia moglie ovviamente a farlo non io però è una buona soluzione però è interessante grazie e vorrei che cercavi anche di di aggirire il compito scusate vorrei che il Chris intervenisse per dire quella cosa che ha scritto mi piacerebbe che la spiegasse lui relativamente all'ossidazione nelle birre diciamo più da invecchiare Chris no semplicemente che le birre in cui l'ossidazione può essere ricercata che sono Guievi Barley Wine Imperial Stout e Compagnia Bella praticamente con l'invecchiamento naturalmente si ossidano perché anche la CO2 stessa contiene ossigeno e di contro perdono carbonazione era semplicemente questa osservazione ok quindi anche questo da tenere in considerazione insomma bene io adesso sono sul punto della siringa perché lo scelgo dopo e non prima Andrea devi rispondere non prima ma non so ho sempre fatto così ti dico la verità non me l'ho mai posto il problema di l'ho sempre visto come soluzione più pure allora ho sempre evitato di mettere tutta la soluzione dentro il fermentatore che ora lì non mi è mai piaciuta come soluzione perché l'ho trovata sempre imprecisa e per il resto l'ho messo dopo non lo so forse all'inizio avevo paura tra virgolette di con l'asta da travaso non so di portarti dietro non lo so ho sempre fatto così io sai perché faccio così anche io faccio come te perché se tu metti la stina lei ha un volume suo e riempi fino a qua quando tu ti sembra piena quando togli la stina cala il volume fino a qui aggiungendo dopo lo zucchero recuperi parte dello spazio che la stina ha lasciato vuoto e vai a togliere dell'ossigeno io pensavo che spruzzando forte come fa lui butti dentro l'ossigeno io lo spruzzo dentro forte io la metto semplicemente dopo per recuperare dello spazio vuoto che l'asta da travaso lascia perché lei ha un volume che è nella bottiglia quando tu la togli il volume cala e lo vai a raccolmare con la soluzione di acqua e zucchero invece la componente tempo cioè tipo cerco di far metto lo zucchero prima così tappo più velocemente non c'entra un cazzo perché tanto l'utilazione secondo me non avviene in un nanosecondo avviene nel tempo io penso che se uno sta lì 20 secondi cioè non credo sia quel contatto lì l'altro fattore è che se metti prima lo zucchero poi vai a riempire con la birra se te arrivi un po' lungo che ti esce un po' di birra perché può capitare che ti è riusciuto troppo tardi l'asta da travaso quello che ti è uscito cos'è? birra e un po' di zucchero cioè era già una miscela delle due comunque una miscela perché sono due liquidi compatibili sono fatti di acqua per il 90% per cui quindi rischi che ti sfasi la carbonazione credo che a livello di fobie siamo un po' messi in mezzo no qui stiamo esagerando secondo me no secondo me è quello che si mescolano esatto si mescolano nel momento in cui vengono a contatto sono fatti di acqua per la maggior parte per cui acqua con acqua scusate scusate cerco di chiudere perché stiamo andando un po' oltre e poi comunque rimaniamo per farci la ghecchierata giusto per chiudere la registrazione e Massimiliano hai alzato la mano vai l'ultima parola dico una cosa intanto quello che veniva detto poco fa lo zucchero sicuramente messo nell'acqua ha una considerazione maggiore quindi dovrebbe scendere all'interno del liquido dovrebbe andare verso il basso più che altro io faccio un po' come Daniele anch'io un tiro di priming però faccio il jetting ultimamente cioè ho comunque salto la bottiglia di CO2 prima riempio faccio il jetting con una semplice con una siringa e la situazione è migliorata molto quindi tanti problemi di siring dimmi con la birgan inserisci no io ho comprato la pistola cinese famosa però era troppo lento il riempimento e quindi l'ho modificata ho tolto il tubo esterno e quindi rimane solo il tubo in cui passa la CO2 e gli ho accoppiato un tubo in cui passa la birra e quindi da una parte entra la CO2 e da un rubinetto entra la birra che va sul fondo della bottiglia però l'associazione con la CO2 in cui saturi la bottiglia riempi di birra e poi fai jetting e poi rifermento ovviamente aiuta molto secondo me e soprattutto per chi vuole incominciare adesso la contropressione è molto più complicata un sistema così con rifermentazione associato a CO2 e jetting aiuta molto e poi prendetelo in considerazione sono d'accordo e diciamo che è un passo intermedio per arrivare poi eventualmente se si vuole alla contropressione sì insomma è un po' più complicato anche in termini economici più costoso richiede più tempo eccetera eccetera bene io ringrazio tutti come al solito siete stati molto esaustivi gentili abbiamo parlato di un argomento piuttosto dibattuto ma l'abbiamo fatto in maniera molto ordinata tra l'altro stasera mi fa molto piacere e quindi io chiuderei la registrazione volevo sfidare la sorte facendo fare una recensione della birra che sta assaggiando il biondo che è la mia che ho chiamato però lo faremo dopo così non sei condizionato dalla registrazione mi devi dire per forza che è buono così mi puoi insultare per bene a registrazione ultimata ringrazio tutti quanti una buona serata e con gli amici che hanno il box ci vediamo mercoledì per la quarta incustazione insieme a Damiano che è qui con noi anche stasera per gli altri invece venerdì prossimo se fate come ha fatto Daniele che suggerite argomenti interessanti come quello di stasera ve ne sono grato e ne parliamo insieme molto molto volentieri grazie e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti